La cattina è geografica, non la storia, non la storia, non la storia. Ci sono tante cose che devono arrivare, e se tessero... Ora, però, grazie a Dio, piano piano cercando di mettere una cosa per conoscere con la storia. Io anche, no, perché sono a Catania, io da lì sono europaese, e io devo mantenere il paese, almeno Catania, allora Catania è Catania, Catania non ci interessa da interessi, non ci interessa se tu... magari ci potessero pensare che c'è un travaglio, una lira per tutti, ma stop, ma altre cose... Ma i catanesi proprio dicono che l'indina è Catania, l'indina è Catania, che è il gastro che c'è su casa, sui catanesi, no? Allora, chi sanno determinate cose che a me mi hanno spiegato, quanto è stato? Io li so, però c'è magari quella che ne sape, che viene, che è convinto che il cane... E allora... Eh, questo qua è come Catania. Ma no, io non ho mai marciato perché stiamo facendo, stiamo venendo noi, a sempre affettare la conoscenza e partecipare questa situazione, perché è una situazione che si affermare, perché se non va... perché io non l'ho nascendo, ma io non lo puoi ammanacciare mai, allora l'avanzo non mi hanno mai potuto mai a fare questa cosa per l'avanzo. Non ci sono tassi un po' di un capello da come bella il Ideo. È lui cosa sia possesso c'è Vara. Si è minda le enfine sono orate, e guardi? non stai se poter amassare, ora passò poter, è un po' del marquez, per il tempo, avevi un po' di romanzo, il problema di in grado, che fa l'instituzione, è un po' di rendi, ma ne sono parecchio il problema, non c'è l'acqua, non c'è l'acqua, non c'è l'acqua, non c'è l'acqua, non c'è l'acqua non c'è l'acqua οicamentec, non c'è l'acqua, non c'è l'acqua, l'acqua, è l'acqua, non c'è l'acqua Grazie a tutti. Grazie a tutti.